Ho viaggiato in tutto il mondo. Ho visto persone morire in modi che non sapevo fossero possibili. Ti voglio bene, fratello. Sta' attento. Lo farò. Ma di tutte le cose che ho visto... Non ho mai visto demoni. Né fantasmi. Né magia. Fino ad ora. Torniamo dentro. Fatemi entrare! Sta succedendo qualcosa di strano qua fuori! Se continui a danzare con il diavolo... Fatemi entrare! Fatemi entrare! Fatemi entrare! Fatemi entrare! Dovete farmi entrare! Un giorno lui ti seguirà a casa. Fatemi entrare! Sed campi che ii! Grazie.